Una patologia molto comune, l'altra volta abbiamo fatto l'artrosi, patologia comunissima, un'altra patologia comunissima è l'acne. L'acne vulgaris diremmo non è altro che un aumento di sebo nelle ghiandole sebifere della pelle che sono distribuite in tutto il nostro corpo e questo aumento di sebo, alcune volte perché si chiude l'ostio, perché aumenta il sebo, eccetera, eccetera, perché si sovrappone un'infezione batterica e così accrea questi brutti furuncoli inestetici. E quindi è un problema abbastanza importante che colpisce da un lato la pubertà, perché chiaramente in pubertà è il momento in cui c'è la maggior produzione di ormoni sessuali, il corpo viene invaso dagli ormoni sessuali e noi sappiamo che è il testosterone quello che è coinvolto nell'acne, ma è un problema che coinvolge anche poi l'adulto. Io vedo molto spesso l'acne vulgaris anche in persone di 30 anni, 40 e così via, complice anche quest'anno l'uso continuo delle mascherine, perché le mascherine vanno continuamente a sfregare sulla pelle se qualche microbo ovviamente può creare delle infezioni. Quindi in questo 2020-2021 abbiamo visto un aumento delle manifestazioni acneiche. L'acne esordisce prevalentemente nelle femmine, perché nelle femmine sapete che c'è prima lo sviluppo sessuale. Lo vediamo nel maschio normalmente a 14 anni, ma invece vediamo nella donna la comparsa della prima menstruazione spesso a 12 anni. Il sviluppo sessuale vuol dire aumento di ormoni sessuali e quindi vuol dire anche conseguentemente acne. Ma poi sarà il maschio, nel quale invece aumenta in maniera più sensibile il testosterone, che avrà le manifestazioni peggiori sostanzialmente. E le manifestazioni peggiori sono dovute al fatto che in questo aumento di sebo, in questi comedomi che si creano, si inserisce anche un microbo sostanzialmente, il proprio neobacter acneis, il quale crea la situazione infiammatoria. Ecco perché tante volte nell'acne sono consigliati anche gli antibiotici, ovviamente, perché la medicina ufficiale affronta l'acne sostanzialmente in tre modi. Da una parte cercando di inibire gli ormoni sessuali, cosa che, se capite bene, è anche un grosso problema poi per l'aspetto psicologico e per lo sviluppo globale dell'organismo. Dall'altra dando ad oggi massive di vitamina A, di retinoidi, dei quali hanno come effetto collaterale spesso un danno epatico, tanto che si dice se c'è una donna, una ragazza, che prende retinoidi per l'acne, per esempio, dovrà prendere anche la pillola anticogezionale perché si rimanesse incinta nel momento in cui prende i retinoidi, questo potrebbe creare delle malformazioni fetali. E poi invece c'è anche l'intervento dell'antibiotico, quindi sono i tre approcci della medicina ufficiale. Noi invece vediamo cosa possiamo fare dal punto di vista della medicina naturale. Inoltre cerchiamo di capire perché viene l'acne in maniera un pochino più esatta. Noi sappiamo che viene secreto il testosterone, come dicevo, nella povertà sia nel maschio che in maniera un minore nella femmina, questo testosterone viene trasformato poi in deidrotestosterone ed è questo deidrotestosterone che crea poi il problema dell'acne a livello, è quello che determina la caduta dei capelli nel maschio, la peluria nella femmina, assieme a un altro ormone che è il DEA e anche l'acne. Quindi il problema è sostanzialmente questo ormone. E la quantità di questo ormone, perché l'ormone chiaramente è importante per la psiche, per i muscoli, per le ossa e così via, il problema è la quantità di questo ormone. E normalmente nel sangue è legato dalle proteine che lo veicolano. Se queste proteine che lo veicolano diminuiscono, chiaramente la quota di questo ormone aumenta, aumentando la quota di questo ormone aumenta poi anche la quota di deidrotestosterone che si forma e quindi si manifesta l'acne. Quindi c'è tutta questa relazione complessa. E poi naturalmente ci sono dei fattori che possono peggiorare la situazione acneica. Per esempio noi sappiamo che l'assunzione di progesterone oppure un aumento del progesterone peggiora l'acne. Noi vediamo per esempio che mentre nella donna sui 40 anni incomincia ad esserci la dominanza estrogenica che crea molti problemi, la dominanza estrogenica è quella che crea problemi al seno, che crea problemi psicologici, eccetera, eccetera. Nella pubertà invece c'è un po' l'opposto. Molto spesso le cose variano con l'età. C'è la dominanza progestinica, che il progesterone correlato anche a deidrotestosterone è quello che dà anche il desiderio riproduttivo, che dà tutte quelle caratteristiche, quell'entusiasmo sessuale degli adolescenti, che poi andrà scemando invece versi 40 anni. Quindi abbiamo questo cambiamento. Abbiamo la dominanza progestinica e poi la dominanza estrogenica. Entrambe sono problematiche. La dominanza estrogenica la vedremo collegata, appunto dicevo, a molti problemi del seno e della psiche. La dominanza progestinica la vediamo collegata, per esempio, a proediti bacneico. Naturalmente la salute sta nell'equilibrio tra progesterone ed estrogeni. Quindi dobbiamo avere un equilibrio sia nell'adolescente, naturalmente, che nella donna più avanti. Quindi, ecco, di questo dobbiamo tener conto. Quindi magari nella ragazza giovane vediamo di spingere, se c'è questo problema, verso la fase estrogenica. Come, per esempio, magari facendo un'alimentazione ricca di soia, magari usando il don quai e cercando di, invece, limitare l'aspetto progestinico. L'altro problema è l'aumento di certi ormoni. L'ormone della crescita, per esempio, è molto sfavorevole per l'acne. Si vede, per esempio, che ci sono dei ragazzi altissimi, più alti sono, più hanno l'acne. Quindi i livelli longilinei con alti livelli di ormone somatotropo hanno spesso l'acne. Quindi vedete che interessante. Quindi l'acne, che dobbiamo sempre di volta in volta valutare, abbiamo tutto questo protocollo, diremo, e noi andiamo a capire perché c'è l'acne. È dovuta alla mascherina, è dovuta all'età, è dovuta agli ormoni, è dovuta alla tendenza di avventi e così via. Ma noi, con le nostre sostanze che abbiamo in parte a usare, useremo le sostanze giuste, il cocktail di sostanze giuste, per la nostra specifica acne, perché tutto è specifico per l'individuo, che è un essere unico.